buongiorno benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui affronteremo il tema degli elementi supporto ovvero tutti quegli elementi che sostanzialmente non codificano direttamente le informazioni ma servono per aiutare nella lettura del grafico sostanzialmente parliamo degli assi delle tacche sugli assi dell'area del grafico quindi ad esempio le griglie che sembravano a leggere meglio i dati delle etichette leggende tutte le linee o gli altri simboli di riferimento e la possibilità di avere più grafici combinati in uno solo iniziamo a parlare degli assi normalmente gli assi servono per andare a posizionare gli elementi principalmente i punti o comunque altre forme che io voglio andare a disporre o per andare a leggere con più facilità il punto estremo di una barra oppure di una linea un aspetto importante è andare a etichettare sempre gli assi in modo che si sappia a cosa si riferiscono eventualmente anche a riportare quella che è l'unità di misura in generale quando un diagramma gli assi dovrebbero essere due è chiaro che è possibile che in alcuni casi particolari ci sia anche un unico asse oppure che un asse sia sostituito da quello che è il principio di continuità le tacche sugli assi devono essere fatte in maniera appropriata ovvero non devono andare a oscurare gli oggetti che io rappresento nel grafico quindi ad esempio se io ho delle tacche molto prominenti che magari entrano dentro l'area del grafico queste potrebbero andare a disturbare la lettura quindi tendenzialmente dovrebbero stare fuori e in generale non vengono usate delle tacche quando io vado a rappresentare delle categorie ad esempio le regioni piuttosto che una serie di valori di una misura categorica ordinale. Il numero di tacche normalmente deve essere ragionevole quindi non deve andare a oscurare il grafico non deve essere difficile andare a distinguere una tacca dall'altra e ovviamente in generale gli intervalli tra una tacche e l'altra dovrebbero essere normalmente equispaziati. L'unica eccezione in questo caso è quando io ho a che fare con scale che non sono lineari ma ad esempio sono logaritmiche. un problema che noi dobbiamo affrontare spesso è quando abbiamo a che fare con più di due variabili quindi abbiamo tre o più variabili ad esempio ho due misure prese in certi intervalli di tempo quindi ho sostanzialmente una misura che è il tempo più gli altri due valori che vengono misurati in certi istanti di tempo. in questo caso spesso ho a che fare con più unità di misura o più modi di andare a interpretare le variabili quindi come posso andare a rappresentarli? Allora una tecnica che viene usata talvolta è quella di usare una doppia scala ad esempio in questo caso specifico sulla sinistra abbiamo il GDP quindi il prodotto interno lordo e sulla scala di destra abbiamo quello che è l'indice di Gini ovvero un indice che mi dà il livello di disuguaglianza. e sull'asse orizzontale abbiamo il tempo questo è una rappresentazione di dati che abbiamo già visto in esempio in una lezione precedente che riporta in diversi anni per diversi presidenti i dati relativi al Brasile del prodotto interno lordo e di quello che è il livello di disuguaglianza. Ora questa è una possibile rappresentazione dei dati ma ovviamente io le due scale le posso allineare e scegliere il range in maniera molto diversa per cui esattamente gli stessi dati potrebbero essere rappresentati anche in questo modo in cui vediamo un andamento quasi piatto dell'indice di Gini e una crescita forte di quello che è il GDP per cui ci sono modi diversi di rappresentare gli stessi dati. Un altro aspetto importante è che è difficile ed è spesso ambiguo andare a associare una serie di valori alla scala destra piuttosto che a sinistra. Possiamo utilizzare colori diversi ma questo non è immediato. Quindi oltre ad avere una scelta arbitraria di quelle che sono le due scale abbiamo anche il problema di capire bene a quale delle due scale fa riferimento. Per cui l'uso della doppia scala è un qualcosa che tendenzialmente è molto meglio evitare. È sicuramente meglio andare a utilizzare più grafici. In questo caso i grafici sono allineati quindi abbiamo esattamente la stessa scala per gli anni e per ogni anno abbiamo in un grafico il valore dell'indice di Gini e in un altro grafico invece quello che è il prodotto interno lordo. In questo modo la scala tendenzialmente non è arbitraria, di solito scelgo una scala che mi rappresenta l'intero range di valori che assume questa variabile in entrambi i casi e quindi non ho una scelta arbitraria che possa andare a enfatizzare o ridurre variazioni, differenze. Inoltre quello che spesso succede quando utilizzo una doppia scala è che a un certo punto ho i miei due grafici che si incontrano. Ecco, quindi dove si forma la X normalmente l'occhio dell'osservatore viene attirato e immagina che possa succedere qualcosa. Però ovviamente l'incrocio viene qua piuttosto che qua oppure in nessun punto in funzione di quella che è la scelta delle due scale. Per cui tendenzialmente, ripeto, è molto meglio utilizzare più grafici opportunamente allineati tra di loro. Un'altra alternativa è quella di andare a rappresentare la variabile temporale in maniera implicita. Quindi qui riporto il prodotto interno lordo e qui l'indice di Gini, dove vediamo che tendenzialmente i vari punti che rappresentano i vari anni in cui sono state misurate queste due grandezze, evolvono nel tempo e mentre c'è un'oscillazione tra l'indice di Gini e poi una decrescita, abbiamo sostanzialmente quello che è un andamento continuamente crescente per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Quindi in generale, in presenza di più variabili da rappresentare, la scelta è quella di andare a rappresentarle in tanti grafici diversi con una tecnica che viene chiamata dei piccoli multipli. Si utilizzano anche il termine trellis, lattice o grid. Trellis è il traliccio che viene usato ad esempio per far arrampicare le piante arrampicanti o per andare a separare due proprietà. Sostanzialmente con questo termine si indicano un insieme di grafi che sono opportunamente allineati, che quindi condividono le scale, gli assi e rappresentano diversi insiemi di variabili. Un esempio di piccoli multipli è quello che vediamo qua, dove abbiamo sostanzialmente il tasso di disoccupazione dal 2004 al 2015 per diversi paesi e vediamo come il tasso può variare e comunque è variato in diversi paesi. in generale abbiamo, almeno soprattutto quelli dove il tasso è più alto, una crescita, in altri abbiamo un andamento che è sostanzialmente stabile e quindi vediamo chiaramente come questo varia. Ovviamente se io andassi a rappresentare questi dati in un unico grafico sarebbe un grosso pasticcio. Quindi in generale l'importante è che io mantenga gli assi allineati, quindi l'asse x, l'asse y in questo caso è esattamente lo stesso per tutti i grafici e posso andare a utilizzare più, in questo caso, misure diverse, per cui qui c'è il tasso di disoccupazione giovanile e questo è il tasso di disoccupazione a lungo termine, dove andiamo a vedere gli andamenti delle diverse, in questo caso, diversi stati. Un altro caso tipico che può succedere quando devo andare a rappresentare dei dati è l'uso di scale logaritmiche. Perché utilizzo le scale logaritmiche? Allora, le utilizzo per diversi motivi. Innanzitutto perché quando ho dei valori molto grandi e molto piccoli, questi tendenzialmente possono sembrare molto affollati, soprattutto sui valori piccoli, perché un unico valore grande schiaccia tra di loro degli altri valori che sono invece più piccoli. E posso utilizzare le scale logaritmiche anche per andare a sfruttare alcune proprietà dei logaritmi che mi permettono di leggere in maniera più immediata alcune caratteristiche su una scala logaritmiche rispetto a una scala lineare. Quindi, sostanzialmente, se io utilizzo una scala lineare, mi ritrovo, se ho tanti valori piccoli, tutti i valori schiacciati l'uno sull'altro, mentre invece i valori grandi sono tendenzialmente molto sparpagliati tra di loro. Se io rappresento gli stessi casi utilizzando una scala logaritmica, quello che ottengo è che tutti i valori piccoli, che quindi erano raggruppati qui, sono invece molto più distanziati tra di loro e quindi riesco ad apprezzare meglio i singoli punti, che invece qui è impossibile andare a identificare. Mentre invece i valori più grandi, invece di essere molto distanti l'uno tra l'altro, sono decisamente più vicini. Quindi, quello che è un raggruppamento dei valori bassi e una spaziatura enorme dei valori alti viene modificata da questo tipo di scala, che invece mi sparpaglia un po' di più i valori bassi e mi raggruppa quelli alti. Questo mi permette spesso di andare ad apprezzare meglio i singoli elementi, quindi di fare quella operazione che è la discriminazione tra un punto e l'altro, che invece, nel caso di una scala lineare, è tendenzialmente impossibile. Un'altra proprietà interessante dell'uso delle scale logaritmiche è che, mentre su una scala lineare io ho delle differenze uguali quando ho una differenza assoluta uguale, per cui se passo da 100 a 180 a 325, ho una differenza di 80 qui e di 144 qua, e quindi queste due differenze, tra la terza e la seconda, tra la seconda e la prima barra, sono chiaramente diverse. Nella scala logaritmica ho una differenza uguale quando la variazione percentuale è uguale. Quindi un aumento dell'80% qui e un aumento dell'80% qui sono visti sostanzialmente esattamente allo stesso livello. Quindi questo mi permette di andare a rappresentare in maniera molto più lineare e chiaramente uguale quelli che sono delle variazioni percentuali dello stesso livello, della stessa entità. Un esempio interessante di uso delle scale logaritmiche è ad esempio quello che ho utilizzato in questo diagramma che rappresenta il numero di casi di infezioni confermate da coronavirus in vari paesi. Ovviamente ci sono alcuni paesi qua su in alto che sarebbero ovviamente molto sparpagliati, quindi parliamo qua di 60.000, qui parliamo di più di 30.000 e questi valori sono sostanzialmente, sarebbero molto sparpagliati, invece sono raggruppati e i valori bassi in questo caso sono sostanzialmente espansi. Quindi un altro aspetto interessante è che questa linea tratteggiata mi rappresenta la pendenza che avrei quando ho un aumento del 33% dei casi di volta in volta. Quindi quando ho degli aumenti che sono più legati a percentuali rispetto a variazioni assolute, ecco che una scala logaritmica mi dà la possibilità di rappresentarli esattamente in maniera più semplice, seguendo una linea retta. Per quanto riguarda l'area del grafico, invece alcune raccomandazioni sono possibili. In generale è bene utilizzare un aspect ratio, quindi un rapporto tra larghezza e altezza, che non distorca troppo le dimensioni. Quindi normalmente i grafici sono leggermente più larghi di quanto sono alti, esattamente come i nostri monitor, quindi un 2 terzi, un 4 terzi. Le linee, le griglie che io rappresento, in generale devono essere molto sottili e leggeri, quindi chiare in modo da non andare a coprire quello che è il grafico, ma dare semplicemente quel minimo di supporto per poter leggere con una precisione migliore i valori. In generale, per quanto riguarda le etichette, bisogna mettere i titoli più importanti, grossi e nei posizioni dominanti. Per quanto riguarda le leggende, l'abbiamo già detto, è bene andare a utilizzare degli attributi che non siano rappresentati sugli assi, devono essere quanto più possibile vicini agli oggetti che rappresentano e se possibile è meglio andare a utilizzare un direct labeling piuttosto di usare una leggenda decisamente separata. In generale ricordiamoci che il numero di possibili variazioni che abbiamo di un attributo è intorno a 5-8 e quindi questo è un limite a quante diversi elementi posso rappresentare in un grafico. Ricordiamoci che è preferibile utilizzare tanti grafici piccoli piuttosto che tanti dati in un unico grafico grande. Qui abbiamo alcuni esempi di leggende che usano delle forme diverse. Ovviamente è molto meglio utilizzare un direct labeling o addirittura andare ad accompagnare una codifica tramite forme dei simboli con anche un colore. Tenete presente che il direct labeling può essere applicato anche ad altri tipi di grafici, per cui ad esempio se abbiamo un diagramma a barre ovviamente io non posso andare a mettere la leggenda vicino a tutte. Quello che posso fare è andare a mettere un'etichetta su ad esempio la prima coppia di barre e poi per somiglianza, per similarità io posso andare a dedurre che tutti i viola saranno indiretti e tutti gli arancioni sono diretti. A questo punto quello che possiamo fare è fare alcune considerazioni su una tendenza che si vede abbastanza che è quella di andare a utilizzare dei diagrammi con le tre dimensioni. Allora, ci sono due casi particolari. Un caso in cui le tre dimensioni sono utilizzate per andare a codificare dei valori, quindi ho sostanzialmente una proiezione di tre dimensioni che codificano tre variabili diverse. Oppure posso andare a utilizzare la terza dimensione non per motivi di codifica, ma sostanzialmente per andare a dare alcune decorazioni aggiuntive. Quando io ho un meccanismo di codifica abbiamo già visto che la terza dimensione ci dà delle percezioni alterate perché se io vado a confrontare la cima di una barra con la cima di un'altra posso andare a non notare bene dove inizia la base della barra, giusto per l'effetto della proiezione, quindi rischio di avere una percezione, un confronto molto alterato. Inoltre posso avere delle barre che sono sostanzialmente nascoste da altre. In questo caso è decisamente preferibile andare a fare un'altra codifica che eviti la terza dimensione. L'uso di più grafici multipli può essere una soluzione. L'altro caso, quello dell'aspetto decorativo, invece sostanzialmente non ha nessuna utilità in termini di codifica e non fa altro che alterare la percezione. Per cui quello che è normalmente preferibile fare è prendere questi dati e andarli a riportare su due semplici dimensioni ottenendo quella che è una rappresentazione molto più corretta e più facilmente percepibile. Quindi in realtà per aspetti decorativi ho semplicemente un'alterazione, per aspetti di codifica ho una percezione che non è spesso corretta. Per cui la raccomandazione è in entrambi i casi evitare i diagrammi in tre dimensioni e cercare di riportarli su due semplici dimensioni. Con questo abbiamo sostanzialmente concluso la nostra panoramica su linee guida per andare a costruire dei grafici. Il passo successivo quindi sarà quello di andare a capire come posso andare a valutare i dati che uso per costruire questi grafici e quindi andare a valutare i loro aspetti di qualità e quindi capire se li posso utilizzare per andare a trasferire delle informazioni che siano utili e corrette.